Non sono Maratona, non sono Gandhi, non sono Beethoven Stasera abbiamo sfaccato insieme a Jack the Smoker Qui dietro i miei fratelli Per la data del 22 Jack the Smoker, 22 Jaiden Jaiden Jack 3 Allora, qua vi spiego cosa succede Dopo le serate succedono a Battistania Vieni che atterrano, a Battistania Insomma Il fatto che deve restare in presto è che il 22 A Tradate, vicino Varese Sax presenta come ospite Special Guest Raiden In apertura ci siamo noi Molotov Music C'è anche B-Hood Fatti vedere C'è anche Inchiostro Sporco Per Marco Righetto e Alessandro Sax Quindi Bella lì, chi non viene è una merda Ma soprattutto Le merda che sono venute qua stasera Bella Bella Boo Ciao Guestolo di caffè Ciao Guestolo di caffè Ciao Guestolo di caffè Ciao Guestolo di caffè Tu e' solo la forza di volontà Solo la forza di volontà Guerrico Grazie a tutti UI